Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 sulla direttissima ci sono tre chilometri di coda tra la variante di Valico e Badia in direzione Firenze per un veicolo in avaria. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, tratto chiuso tra Popiglio e la Lima in entrambe le direzioni a causa di una frana, il senso unico alternato per una frana tra Giardinetto e Popiglio. Sulla Fibili, personale su strada per lavori tra Livorno Aurelia e Livorno Porto in direzione Livorno. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, lavori nel tratto compreso tra Porto di Mezzo e San Benedetto in Alpe in entrambe le direzioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!